non ti scoprire quando te il circolare esci sempre fuori dalla linea dei diretti è vero io devo pigliare sti cino cino veniamo alla fronte ragazzi forza continuo bella grappling a terra sali in monta tieni la posizione mille uno mille due mille tre sono quattro punti rimani su si si vai verso di lui gira di tutto verso di lui salvo vai verso di lui sali stop mi capisci però cosa intendevo no? praticamente lui ha questo braccio ti devi girare verso di lui devi salire su e provare le gambe chiuse ce le va belle chiuse e ci devi provare lo stesso o provare a levare le gambe capito? va bene due minuti e mezzo 30 secondi via bene troppe vi faccio tutte le movenze di braccia che non mi piacciono adesso giusto giusto i ушi